Tieni, Charlotte, parla con Jasper. Mi dispiace, Jasper, dolce mandarino e impegnato. Andiamo, kid. Aspetta, tieni! No, ferma, non lo voglio, no, no, Charlotte, tieni tu il monchi... Superi il tubo! Kid Danger! Aspettate, Charlotte! Farò un palloncino. Farai un palloncino? Non crederai ai tuoi occhi! Come ti sembra? Non mi resta che fare il palloncino e fermare quel cretino! E come stanno i capelli? Perfetti. Sì, lo so. Che domanda stupida. Lascia stare. Pronto? Sì. Siamo pronti a girare. Se poi il video vuoi guardare. Dai, fammi vedere. No, lo vedo prima io. Io sono Capitan Man. Ma il telefono è mio. Il telefono è mio. Ok, lo guardiamo insieme. Ok, lo guardiamo insieme. Ah, sì, va bene. Ok, lo guardiamo insieme.